Lui è Jacopo Melio e sta per essere insinito come Cavaliere della Repubblica Italiana. Ce l'hai una bella storia che ti porti dietro? Annalizzo. Un anno fa ho assumito delle violenze sul lavoro e io sono riuscito a cominciare a partecipare allo sportello psicologico che vuole venire pleno. Non solo ha trovato un nuovo lavoro, ma anche il suo rischio. Allora fanno bene a prendere. Spendiamolo su. Per il suo appassionato continuo alla causa dell'abbattimento delle barriere architettoniche e degli stereotipi culturali. Ecco un piano che arriva nel gennaio 2015, adottato alla OMS, vorrei prendere il barriere. Si occupa dell'abbattimento di tutte le barriere russo, soprattutto culturali. Ma il mio viaggio era iniziato il giorno prima, quando sono andato a trovarlo a casa per fargli 50 domande scomode. Salve! Sono in partocco, eh? Puoi vedere? Belle! Vieni a prendere! Le mani a prendere? Si! Una cosa è che non ti piace da mangiare? Gli spinaci, come bambini! I denti te li lavi prima o dopo un colazione? Dopo, infatti me li devo lavare, sarà meglio andare... Prima di fare l'intervista... I denti te li lavi da solo? E' peggio... Se me ne vuoi, me ne vado a fare... Boxer o mutande? Mutande! Calzino lungo o corto? Corto, ma in inverno lungo e sui pantaloni, come i vecchi! Davvero? A voi! Da stasera in poi, mi dovrò chiamare il cavaliere! Senza macchia e senza paura! E' come il cavaliere nero, la sai quella del cavaliere nero? No? Il cavaliere nero e il cavaliere nero, il cavaliere nero ammazza il cavaliere bianco, ma il cavaliere bianco aveva lupini, questi lupini per vendicarsi vanno da stavaliere nero, ma il cavaliere nero l'ammazza tutte e due, questi lupini c'avevano lupini per uno, tutti e quattro vanno da stavaliere nero per vendicarsi, ma il cavaliere nero l'ammazza tutte e quattro. Questi quattro figli per avere, e uno dice, qual'è la morale? E per il cavaliere nero non li ne ha in casa al cazzo! Meraviglia, ragazzo! Dai voti! Assolutamente! Cosa? Voto il progresso e l'apertura mentale. Come si chiama la tua malattia? Sindrome di esco base, come il famoso lato trafficante. Ti sei laureato? Sì stamani a colazione ho mangiato tre embriose. Come domanda poi ho anche... ah ti sei laureato? Sì, ogni pomeriggio lavorerò a un nuovo articolo per fampegno.it Hai scritto un libro! Faccio salti altissimi! Mi fai vedere la copertina? Ce l'ho di là, mi saluto. Una vitreppata. Allora vado io! Faccio salti altissimi! Jacopo meglio! Jac? T'ho fatto la pubblicità! E dunque stai facendo i soldi? Sì, che tra l'altro non ce ne sarebbe nemmeno bisogno perché ogni famiglia ha anche la pensione quindi è ricco per sua natura. In realtà la pensione di validità è bassina. Bassina è insufficiente per poter essere autonomi e indipendenti oggi. Una cosa che non sopporti? È la prepotenza che ti alza la voce. Quando sono nato non piangevo. Io me la racconto dicendo che forse avevo capito che le cose migliori si dicono sottovoce. Ti manca non poter camminare? Non è il camminare che mi manca, mi manca l'autonomia. Cioè avere una macchina dove chiedere i passaggi e che forse viaggiare è la cosa che mi manca più. Tu puoi dare un calcio? Se mi fai arrabbiare, sì. Ok. La tua parolaccia preferita? Tette. Cazzo. Tette non è una parolaccia. È una parola meravigliosa. Credi in Dio. Il mio rapporto con Dio è un po' complicato. Una frase che ti ripeti spesso. Almeno è tutto bene. Una citazione che ti piace? Per aspera d'aspera. Che vuol dire? Dalle asperità alle stelle. Con chi vivi? Con i miei genitori e mia sorella Costanza. Vivo di fianco. Andrai mai a vivere da solo? Lo spero. Ti piacerebbe avere un figlio? Al momento no. Eh, perché non lo puoi guardare. Hai paura di non poter essere un padre efficiente. In realtà no. Colore preferito? Rosso o giallo? Libro preferito? Angelicamente anastico di Don Andrea Gallo. La canzone preferita? La canzone dell'amore perduto. Come fa? I miei cosmi non ci amano le mie ore. Grazie. Credi nell'oroscopo? No. Mangi carne? Cosa. Mare o montagna? Mare. Sei mai stato dallo psicologo? Ti vergogni? Quando sei nato che hanno detto? Questo fa tempo poco. A che età hai il primo bacio? 15 anni. Sei mai stato vittima di bullismo? No. Almeno non direttamente. Hai mai fatto il bullo? Un po' stronzo sono, però bullo. Peno di no. Usi droghe? Non chimiche. L'amore? Sei favorevole alla liberalizzazione della marijuana? Assolutamente sì. Corteggio o ti piace essere incorteggiato? Sempre. Sei gay? No, non ancora a me. La prima cosa che guardi in una donna? Come si muove? Ho detto la prima. I metalli. La prima? Il sorriso. La prima. Hai tatuaggi? No, però vorrei, ma ho paura. Che tatuaggi? Due virgolette aperte. Ai piercing? No, ma non mi interessano. Ti tingerà i capelli? No, però mi sto perdendo. Una cosa mi sta un po' preoccupando. Cosa fai quando sei triste? Si triste. Preferisci il bagno o la doccia? Posso fare solo il bagno perché la doccia mi fa triste. Credi negli alieni? Mai ne ne mai. Cosa c'è dopo la morte? Eh, spero che sia qualcosa. L'ultima volta in cui hai pianto? 15 giorni qua. Perché? Perché ho sbattuto il mignolo sul congolino. Non so se è previbile questo. Perché non cammini, che smignola sbattura. Esatto. Perché hai pianto? Ho visto il film documentario su Stefano Cutti. Che rapporto hai con l'ansia? Siamo migliori amici. Hai paura di invecchiare? Tantissimo, che ho paura del tempo che passa. Sogno nel cassetto? L'indipendenza. Cosa ti diceva la tua nonna da piccino? Magno. Ti sei mai innamorato? Ogni giorno 10 volte in me. Di solito lasci o sei lasciato? Ho lasciato una volta sola e ho collezionato lasciamenti. Lasciti. Dici scopare o trombare? Dipende dal momento. Posizione preferita? Beh, una posso fare. Non è che ci sia tanta scelta. Cioè, sotto... Posizione comoda. A chi vuoi dire grazie? Credo il grazie più grande, ma dai miei genitori e poi anche a me stesso. Hai mai regalato Fiori? Sì, tante volte e mi ha sempre portato male. Cioccolatini? Sì, insieme ai fiori e mi ha sempre portato male. Cosa ti piace di più del tuo corpo? Le mie mani. Un sogno da sveglio? L'ho fatto ieri sera, mi ha scritto iuri. E ho sognato che possa trovare la cura giusta. Hai una minca donna? Ho più amiche donne che uomini. Ma sono amiche solo perché non te la danno? Un luogo che vorresti visitare? Napoli. Sei in competitivo? Sì, quanto basta. Se ti cade qualcosa da mangiare in terra, poi la mangio e la butti? Ma non mi cade mai perché, essendo un carrozzino, mangio sempre un tavolino. Non mangio in piedi. E questo va bene. E questo è un luogo di patto. Ti piace il black humor? Sì. Lo faccio anch'io. Ti riesci a fare le imitazioni? No. A parte non mi piace costanzo per una morfoglia. Non ha collo come me. Jack. Per salutarsi e vedersi domani da Sergio Mattarella, c'è una frase che tu ti tieni nel taschino. È una frase di Palmino. Quando alzate nei muri ricordatemi di cosa lasciate fuori. Bella. Eh? … …